Questa mattina di buon'ora un'insolita apparecchiatura ha attirato l'attenzione di Elisa che abita in via Scevola, a Cucurano, di fronte all'incrocio con via Attilio, dove una volta uscita dal cancello di casa per accompagnare la sua bambina a scuola, si è imbattuta in quella che all'apparenza sembrava essere i resti di un picnic, una bottiglia di liquore, del cibo, un sigoro appena acceso, ma che in realtà è tutt'altra cosa. Ho trovato qui questa tavola imbandita con tovaglioli, c'era questo piatto pieno di peperoncini, di cipolla, c'era una spezia tipo curcuma con degli spicciolini all'interno, una candela accesa, ormai è spenta ma si vedeva che era stata accesa e c'era questo sigoro, un bel sigoro cubano diciamo, con questo bicchiere, con questo liquore brasiliano al suo interno. Tutto qua, era una cosa un po' strana da vedere, non l'avevo mai vista, non l'avevo mai neanche sentito dire e invece questa mattina diciamo che è stato posizionato qui in questo posto più o meno nella nottata, perché mio marito è tornato dal lavoro, era l'uno e mezza, non c'era e stamattina invece alle otto era già tutto bello pieno insomma. Altri simili ritrovamenti anche nel riminese hanno fatto rizzare però i capelli in testa pensando subito a chissà quali strani e oscuri rituali, ma niente affatto, nessuna santeria, niente voodoo, satanismo o simili messaggi in codice a chissà quale etnia presente in zona o robe simili. Sono delle richieste di benedizioni, grazie o doni, chiesti a divinità afro-brasiliane dette offerenda in cambio di una preparazione, di un piatto più o meno complesso, una tradizione che ha origini antichissime, risalente a dopo il 1549 anno in cui con le deportazioni di schiavi i riti africani si mescolarono con la religione cattolica. Interperlando esperti locali di usi, costumi e ritualità divine dell'America Latina siamo risaliti al vero significato di questa apparecchiatura che alle latitudini latinoamericane sono molto frequenti perché vengono lasciati in luoghi significativi, per lo più per strada o in mezzo alla natura, laghi, fiumi, prati. L'offerenda viene lasciata per lo più però nei pressi di incroci a X o a T per ottenere in cambio il favore richiesto. Niente di oscuro e niente a che vedere con l'occulto quindi, ma anzi un'offerta a fin di bene, quindi come dicono da quelle parti, acea a tutti.